Buonasera a tutti, innanzitutto il circondiato è ben tornato al senatore Dallino Chiti, il presidente prima del Partito Comunista, poi del Democratico Città Sinistra e del Partito Democratico. È stato presidente delle ducche regionali toscana da 1992 a 2000, quando è stato a far parte del governo armato come sottosegretario per la presidenza della presidenza. È letto nel 2001 alla Camera dei Deputati, dal 2006 al 2008 è ministro per le raccolte con il Parlamento e le riforme. È stato anche vicepresidente del Senato e attualmente è presidente della Commissione per le politiche dell'Unione Europea. Per le sue pubblicazioni ricordiamo la sinistra possibile del Partito Democratico alle presse col futuro nel 2009. È già stato il nostro ospite il 21 novembre 2001, questo video laici e cattolici, oltre le frontiere tra ragioni e fede, un dialogo con il cardinale Silvano Permanetti. Il 14 ottobre 2011, con revisione politica nel mondo globale e ragioni di un dialogo, del 17 ottobre 2014, tra terra e cielo, credenti e non credenti nella società globale. Con noi è anche Stefano Giuffoletti, professore ordinario di Storia Contemporanea, presso la Facoltà di Direttore di Polizia dell'Università di Firenze. Ha insegnato storia sociale e della comunicazione, presso la Facoltà di Scienze Politiche della stessa università. Dario Mardella, nato attore del greco, diplomato in violino, presso il Conservatorio di Ricerpini di Firenze, nel 1908, che poi è laureato in violenza presso l'Università degli Studi di Firenze, nel 110 e il 9, un secondo successivamente un dottorato di ricerca di diritto pubblico e dell'ambiente. Ex deputato per il Partito Democratico, dal 26 maggio del 2014, il sindaco di Firenze. E' Roberto Zancaria, nato a Rimini, professore ordinario di istituzione di diritto pubblico, presso l'Università di Firenze. E' stato membro della Camera dei Deputati nella quarta, quinta e sesta e quinta giornata. Presidente della RAI, dal 1908 al 1902, vicepresidente dell'Unione delle Interimensioni Publice Europee, dal 2000 al 2002. E' giornalista e pubblicista che collabora con l'unità. L'autore modererà l'incontro, Paolo Elvini, direttore delle pagine Fertine di Corriere Trasera, al quale fra un minuto c'è una parola. L'autore, alla quarta pubblicazione sull'argomento, prosegue una riflessione sui rapporti di scontro e di incontro tra l'anice e cattocci in Italia, e sovvenendo che nel nostro paese, la laicità è stata concepita, almeno fino alla Costituzione militana, in contrapposizione ai valori della Chiesa. E' proprio questa concezione, l'Unione delle Interimensioni di Corriere Trasera è anche dito di venire cardine sull'amore di una sostituzione di una società. Il volume si dirige come la costituzione di un futuro democratico, che abbia al centro, virgolette, la dignità di ogni persona deve passare per una rinnovata collaborazione tra questi due mondi, che per questo finora hanno percorso state parallele senza incontrarsi realmente. L'unico è la ricerca di un sentire comune che permette di validare il contesto sociale dall'etilità produttiva e dal principio di proprietà, dalla compatibilità per il nostro ambiente alle conquiste della scienza, la ricerca, insomma, di una spiritualità laica in grado di affondare le sue radici nel pluralismo religioso e di favorire il dialogo tra laici e cattolici. Come abbiamo accennato, lo doneranno in conto Paolo Viglini, direttore del Paggine Frentino, per il potere della Sera. Una parola. Grazie. 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 Grazie.